Aspoltatori sportini buongiorno, questo è lo stadio Wembley di Londra, si parla 5 minuti prima dell'inizio dell'incontro Inghilterra-Italia, lo stadio di Wembley, il maggiore stadio londinese, è completo di circa 85.000 spettatori. Ecco ora Haynes, che nella posizione della destra attraversa verso il centro, esce Buffon, para, la panel gli sfugge, la recuperano, prima Chalton, poi Bradley, ma Buffon riesce a fermare il primo tiro, il secondo è fermato da Bernasconi proprio all'altezza della linea bianca della porta. E parte Galli in azione offensiva di contropiede, lancio verso Mariani, limite dell'area di rigore, tiro, rete, rete, rete. Grazie